andiamo god trigger in chat chi si accoppia con me detto così proprio non è proprio elia baci di elia ti autorizzo a scatenare tu come battuta è esatto con quella domanda potresti trovarti brutto e sorpreso che poi l'abbia capito ha fatto wing guardiamo meglio io blu vai sono con te vai non ti vedo che sono ci sono assi davanti sei davanti quindi io attacco che era intenzionale a ok allora va bene aspettate anche se aspettate aspettate partita la partita non colpire però no sì male perché partito è partito anche era una tecnica vai l'ho presa l'ho parata l'ho parata no quindi mi devo concentrare sforbicciate vai mic facciamogli vedere siamo due professionisti noi e si facciamogli vedere come giocano due professionisti pinga mario all'inizio pinga sempre tanto poi si abbassa l'incogno generale presa vai vai mic l'ho sbattuta di lato no l'ho sbattuta in mezzo invece gg well played no e vabbè ho tirato una laggata dura anch'io credo di averlo sparato nella ionosfera invece è rimasta lì abbiamo preso e mi sa che c'è uscito un server un po' grano mi sa che c'è uscito qualcuno che sta pingando a mario il gol 32 mila no no non è entrato era la mia azione della vita vai non voglio citarmi sui tronchi però me non c'è non citare te sui tronchi anche se ho riso tanto ma anche se sto cazzo di palla era bene grazie mario e invece io lo spacco mi fido di te mi è caduto il disegno me lo raccogli stanno facendo delle cose inquietanti devo dire oh il nevo sono contento google gol stila te l'ho detto mic noi impegniamoci sì però io non sto più pingando mario creb cribbio questo non è ci sa fare ma perché in porta non ci sa stare se non per fare quella canzone che ammettono non la sai fare il primo coro della giornata non è male non è male ho fatto una stronzata ho notato non pensavo di essere davanti è vero ricordo a tutti e ricordo a tutti che bisogna fare cori su cori su cori su cori tra l'altro è vero l'ultima puntata non l'ho messa dei cori devo rimetterla qualche miseria tutti e due a mic ma mic non puoi sciorinare la tua tecnica cazzo che ormai ho spiegarmela visto che ormai giochiamo insieme non più contro bisogna fare l'attacco fronte il colpo e il salto mortale frontale proprio nel momento in cui si arriva con la faccia sul pallone ah grazie se ci arrivi di solito la respinta è sempre dalla parte avversaria grazie che me l'hai detto perché adesso siamo in squadra insieme e lo saremo anche più avanti per cose quindi ti conviene che io lo sappia fare vai perché ricordiamo che i max siamo un team oddio no sembrava io nel dubbio ho sparato mario nella ionosfera sto aspettando oh no you didn't didn't he fucking doesn't perché non posso dire he fucking didn't senza la morale coreana ogni tiro sarà un gol assicurato perché no no non c'è bisogno della morale coreana che poi è nippo coreana no 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 ma sì giusto però che è zetto che è nipponica ok ma rotus importa ma non è proprio un gran capolavoro lag della madonna leccami il culo cosa scrive io non è poco professionale la strategia di me che poi con la non so se lo stai facendo apposta gira caso per il campo e poi fa gorra pace esattamente perché cos'è che ha scritto cos'è che ha scritto male la strategia di me con la ah ma sicuro l'ha fatto apposta oddio eh sono andato in ansia da prestazione no 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 ho notato ma eh vabbè comunque lag anche a me a parte gli scherzi però vabbè vuoi vedere come è successo ma davvero argon ha fatto io l'ho mancava ma no ma e via me lo da ma la partita chi ci penserà ma noi ragazzi ma ma dopo ma non è che osta quello che fa ma cazzo eri tu dietro e via e via e via e via ho deciso così di ignoranza e di tu dietro grazie ma non so quanto forse mi hai aiutato a fare gol perché siamo andati io sono andato tu o no e sono preso in pieno 1 vi ricordo che io me che teamiamo su rocket league siamo team due minuti di me che importa dice quando raggiungi due minuti alla fine vai in porta e mi sembra giusto sarei stupito non avessi detto la stessa avessi detto quella cosa lì i due minuti di me che importa stasera no ma gli ultimi tre ma potrebbero è perché questo quarto gol così potrebbe portarci a fare un minuto e 53 e chi può me che ho fatto via dai io vado in porta te lo dico io ignoro la boccia eh sì ma io ero dietrissimo ma il me che importa è quando si ti pongono di svantaggio e di vantaggio e basta siamo in buco era palo era evidentemente palo madonna due minuti così sì sì c'è sempre a posto sono bravo ovazione per andare in modalità yandere hai visto cosa ho fatto? elogiami così va di modalità yandere amici ecco team ad게요 tommy l'ho messa così solo in signor fatte perché non è un'emozione e lo questo anzi per te lo che mi manca non mi ricordo come si è padrone in giapponese un attimo vuoto odio No, se le gas mi ricordo farete gol, allora farete gol come un quad Ah no Controllate il ping, vabbè abbiamo comunque vinto a prescindere dal ping Vabbè, 64-88, 68-44, non è propriamente il ping della vita Tiro della madonna, ma che se la canta to, to Non fa tanto rimo come cuore, vabbè No, Mic, Mic, insultati, ho detto frega un cazzo, dobbiamo andare, adesso sono in berserk Mario era pace Intanto, cosa facciamo, facciamo chiedere l'amicizia a lui? Schi vuole giocare, chiede l'amicizia a... Uuu, eh, l'abbiamo parata A Edo, che ha questo tag, come potete vedere in alto DGR Gli chiedete l'amicizia e... Guarda, guarda, mette il po' Mac, non sei niente Tururururu, tutte le ore, Mac sei migliore Anche questa non... Mic, per favore Respingo, respingo Guarda, guarda, ma hai iniziato a picchiarmi Stai manzo Affanculo E' fatto, è fatto E' d'Ukso Sai, d'ho chiesti Ciao, era storto Ah, poi devo dirla piano, è vero Fa più maglia Più maglia Corri Mac può entrare Ok Non può entrare Ho detto che vincevamo LBT disse, gliel'ho buttata Ma la porta non l'ha scampata Hagano, finché non vi arrivano amicizie Però non posso a zoom Facciamo una partita Nel frattempo mandate amicizie a tutto spiano Argon non può Tiro rapace fatto da me che ci piace Edo vorace, Mac rapace Edo vorace di cosa? Ad Argon lagga dura, mi sa Si bloccano le macchine Si, un pochino, si, ogni tanto Aspettaci No, mi stavo schiando shanty E' blu Va bene, non è obbligatorio che cori Si, devono essere in rima per forza Però Basta che sia l'unico Però va bene Però Tipo vai, Mac Muovire ruote Elogiami, Mac sama Ecco il mio motto Ecco, ho deciso Nella nostra squadra Io sarò la Yandere Che quando faccio qualcosa di bello Tu mi dici che sono stato bravo e pazzesco Fai così Con neanche i gridolini Con i chiuai Yuki sama Scusate, ho appena finito Mirai micchi ed è tutto un Eh, Yuki sama Yuki sama Tutto che ho po' Mi è piaciuto, eh Però, minchia Su 25 puntate Metà è quella che può urla Grazie, Yuki sama No, c'è dato di panza No, 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 no Uomo di panza Uomo di sottanza Tra l'altro, si sa Questa era una parata Perché non mi ha dato parata Non era considerato un tiro al suo Forse mi è arrivata la vista di Go Trigger Intanto Perfetto Fai a triggerare Gli idee Presa Poi Mandate le altre Tutte le altre Che vogliono giocare Continuate a mandare A TGR ed Ux D'amicizia Sì, che è TGR che sparirà Perché visto che lo uso solo su Dota Poi la gente fa Poi si imbellinano tutti Di solito Quindi mi chiamerò ed Ux E metterò TGR che si veda solo su Dota Sbagliato tutti Sbagliato tutti Sbagliato tuttissimo Serve solo su Dota Cioè no Lo puoi mettere Che si veda in base al gioco Dove vai a fare il clan Perché il fatto è che mi appare Anche tipo In alcuni Stim Vai Mik Bravo Ed è Vai in contropedo Ci so Sono nel Contropedo Contropedo Io 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 Traversa Torna indietro Sono in contropedo Sono in contropedo Mamma mia Ma cosa Oggi sembra forte Non so cosa stia succedendo Ma siamo un team Oh anche Canepazzo Mi è arrivata Ma Canepazzo Pazzocane Cos'era già Canepazzo Pazzocane No ci sono io Era quello a fare Per farsi dire Per farsi dire Cazzo pane Quella roba così Era una roba così Ce n'era anche una Io sapevo Quelle qui bestemmioni Però No Siazi Non me la ricordo Adesso non me lo ricordo Ma li sapevo tanto Quanto ci sarebbe Bullet time Su rocket league Bullet time Su rocket league Sì Però sarebbe un po' difficile Da A tutti No ma va Basta seguire l'esempio Di killing floor Lo metti a cazzo Ogni tanto E via Cioè Killing floor è fatto a caso Il bullet time Bullet time Ti hanno triggerato Ho sbagliato Proprio Proprio di un chilometro La boccia Quando c'è god trigger Oh no 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 Quando ci sarà god trigger Non potrò dire Mi hanno triggerato Perché Ma se vincono loro Sì Cos'è al meglio dei tre No C'è al meglio di un cane Oh cane A un cane Di chi è il cane Era così Dicono Esatto Grazie Ma vogliamo fare una cosa sportiva Al meglio dei tre Quindi ci conviene Sconocchiarli subito Così è finita per sempre Vado a chiudere adesso No Chiudere no Chiudere no A cercare Ok Minchia Gran gol Avvicinato al pareggio Vince il rospo Vince la rana E chi non vince No salta il rospo Greta No Cosa ha detto Chi non salta No 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 Non lo dico Rana Sì esatto La salta il rospo Salta che la la Eccolo Arrivato Arrivato zetto Gli oli e benji coreani Hanno battuto anche gli italiani In parte Sono partendo con i core Anche lui Oh questa No Stanno là dentro Però Ci ha provato Sto arrivando in chi Nice track Minchia che laggata Turbo power Eh però Però Mi sa che la dame Ah no Hai toccato a io Hai toccato a io Dai due Ma perché Argon Portaci torna Guarda qua Argon Fa wup È laggato Lì ha laggato Lì ha laggato durissimo Ma anche Mario Beh C'è al super Ma anche tu Pareggio Vai Dobbiamo giocare Uuuuh Eh sì È la La sera Giocare la sera Così tardi Questa ora qua È un po' È un po' Un dramma Eh no Vaffanculo Vabbè ma se è per tutti Che cosa Se laggano tutti Vuol dire che È anche Gol A meno che non ci arrivi Qua non è lagga Qua è mancato Aspetta Devo dirlo Aspettate Vediamo Fa vedere bene il replay Sì Devo dirlo È duxo Saido Kiko Ok Mekhoge è forte Di sfonda Di botte Ho fatto una cagata Due Perché non riesco a capire Se sto andando dritto O meno E quindi Il rinvio iniziale È Dramma Io ho compenetrato il terreno Per me la palla era Iniziale è un dramma totale Ho fatto la rima Ho fatto il corte Bravo No E la palla così E si fermò Per tutte e due Ci siamo fermati tutte Ma è che entra in porta Ti spezza la orta Non ho capito come Ma mi piace Uh presa Ah maria di me L'ho parata Oh no L'ho parata Sì Ma andavi tu Guarda Io l'ho bloccata una volta Data un'altra botta È toccata con il tacco Mentre Eh Ci ho provato Però Cioè Frank Non sei Andiamo rapaci Ma sì Ma perché io Curvo Ma in realtà Non ho curvato Ma perché da me Tipo fai uno zizzacchetto strano È devastante Vabbè Ma come detto Se lo è per tutti Allora Eh vabbè No Sì però fanculo Ho superato la palla Ero dietro Eh ma Non è male Dai Ma io Vedo più che altro La macchina rallentatissima Cioè va proprio Lento il gioco No Toccata Ehm La ritocco Sì La ritoccata però Vero Una Photoshop Oh Un attimo Oh Dai Rovesciata Guarda che Ma che azione è stata Ma che azione è stata No Sì E andiamo Io ho detto Mi fermo Ho voluto fare lo sborone qua Guarda Eh ma non si è visto Il mio passaggio in rovescia Sono stato lì fermo Ho detto boh sboroniamo Argon ci prova Minchia Che culo Ho fatto un passaggio in rovesciata A smarcare Mamma mia Ma perché sulle quali è lenta almeno Ma penso anche loro Io vado in panico In realtà bisogna Frenare A girarla Ti freni dietro E la blocchi Se va piano Però Vai nel panico E tenti di prenderla a turbo Più che puoi C'è da dire che forse Con lag Quando io arrivo largo Ogni volta Ora con lag Arrivo pari Nel senso Forse sono più bravo con lag Perché sbaglio Sempre la mira Merda Ma che Ora invece Ma che non farli tirare Io sto 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 girando Sul soffitto Stai manto Perché mi devi ciulare Le azioni ogni volta Quando Mac fa gol Inizia a salire Era fuori Era fuori Ma stavo controllando Mela con calma Cosa che Mario L'aveva quasi Ma cosa Hai visto Tipo è passato Mario Tra te la palla Se non la spostavo Faccio 17 secondi Di Mac Sì Argonco Ma con lag Sopra E anche noi Stiamo laggando Anche noi siamo bravi Tororo Tororo GG Ho provato a rinviarla Mi ci sono messo in DC Proprio deciso Guarda Bello Sì Peccato che Hai buttato dentro Ma porca Ce la possiamo fare Mic Max sa giocare Ma se la palla Più di tre metri Da terra Non la sai tirare Vai Non fare Suegginate andiamo a se aspetta o double free hand quindi torniamo al menu principale e l'invito ok allora rimuovi senza offesa grazie Mario poi dopo adesso affrontiamo gli altri che volevano che sono eh ma non vi ah devo accettare l'amicizia forse se non l'accento magari quello che hai detto quello che hai scritto tu adesso è esattamente quello che ho detto io tipo futanari lovers ah ecco grazie che me l'hai detto hai detto una roba simile cosa ha detto? non posso dirlo perché potrebbe essere tipo un bestemmione in giapponese non lo so ma se futanari lovers mi dice qualcosa perché futanari è letto no 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 non è letto fidati non è letto eh sì lo so anche da noi però la gava è di brutto quindi oh ok 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 anche se si merita se mi si merita un gg come gg il portiere non sa essere eh sì in effetti grazie google immagini intanto visto? ora hai capito? è una mossa no non è proprio una mossa vai se me pensa che l'avversario sia infame tira fuori le lame oh chi l'ha detta? zetto? hook è 97 oh bravo ottimo non ho ancora capito il sesso di hook vabbè cosa vuol dire? blu sempre blu tutti blu ah blu blu non ho ancora capito sei maschio o femmina no perché blu cane pazzo no 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 vabbè fa lo stesso dai no no ma siamo io e te scusa allora cambiate però ormai ti ho buttato ma porco raggia ma ti devo sfondare il culo eh vabbè 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 vorrà dire che dovrò giocare contro ma devo giocare contro contro mexano mexano adesso lag non ce n'è quindi era colpa di mario era colpa di mario ma di bruttissimo perché non c'è un pelo di lag adesso adesso mi bestemmia infatti faccia per lei ma go trigger è pure la macchina come la mia ma fai schifo ma come? dovresti essere contento ma no ma ce l'ha perché è figa su Rocket League non perché è la mia uuuu cane pazzo dice che fa schifo ma ma tipo che ti non ti è piaciuto boom headshot boom headshot noo a me che il giapponese non lo sai quindi purtroppo il catalano ne saprà mai vabbè ah lo ok allora ok se ero un catalano allora niente capito allora non era niente di offensivo Mario quindi è colpa tua dice Argon go trigger eh si era colpa sua laggava di brutto era colpa sua go trigger go trigger io ho una bassissima sportività quando perdo quindi impegniamoci ecco vedi adesso adesso che non c'è il lag li prendo tutti male i palloni pensa a laggare mentre fai fai mai un devo provocare un lag quando entro durante una partita di pallavolo pensa a laggare durante un amplesso ah durante un amplesso è grazie parca troia la gara durante un amplesso sarebbe complicato più che altro restaresti fermo si leggi cosa ho scritto si trigger e guarda che abbiamo noi in squadra chi ho io lo so lo so che amarezza no 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 go trigger ma tu devi stare in difesa go trigger devi stare agar con la chat vocale go trigger devi stare in difesa quando sei dietro non credo che tu abbia il si si mi dava il simbolino della chat vocale anche lì in mezzo vai palla no lo fermai ecco hai fatto un sono un coglione bravo bravo go trigger trigger insegnagli dei come si trigger no ecco sulla tomba di go trigger scriveremo insegnagli dei come si trigger sto rapace no ho sbagliato scusa scusami scusa chiedo perdono per aver sbagliato di 8 km il 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 rilancio la battuta a rete io ti ho dato un colpo nel sederino ho visto hai fatto mai fatto pat pat boom ho cercato di colpire te bastardo cane pat guarda guarda che buona guarda che buona go trigger non volevo rubargli il goal non volevo rubargli il goal go trigger l'ho visto l'ho visto che entravo ho detto no che ti insegni agli dei come triggerare ma dov'è ma dov'è ma dov'è lo trigger sad mario ho detto vi odio a morte addio ma pinghi 4 come fai a laggare che pinghi 4 sta la 0 sta pingando 0 come fa favoloso ha la connessione della vita quest'uomo si ecco oh aspetta grazie non l'avrei mai messa dentro grazie per avermela sai che mi sarei già imbelinato tra quattro volte nel passaggio quindi va bene grazie meglio così go trigger stai lì poi parlo come se mi sentisse ma porco no rod lascia stare non l'insultare che è colpa tua anche ah è anche colpa tua quello dietro deve stare in porta non ero io dietro adesso oh goal ma che goal si attraversissimo ma lui vola tra l'altro quindi no miracolo parata io non ho parole andatevene affanculo parata di tacco però poi hai fatto la cagata scusa questo è colpa ammetto che è colpa mia due minuti di due minuti di mec in porta potrebbe essere pericoloso qua vabbè proviamo dai dai go trigger adesso per arrivare davanti perde tu ru 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 goal goal oggi proprio non riesco a rimare mi limiterò a guardare va bene ok ok mec posso inventare una canzone nel dolore della vostra illusione non so inventala inventala io vado in porta di nuovo faccio un minuto e 39 di go di mec in porta tu ru 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 so dobbiamo ricevere che abbiamo avuto una bella sfiga libero di rimbassi è noi però se mec fa partire l'altro e contropiede svanisce in un secondo tutta la sua fede esatto Guus, ci hai preso di bruttissimo Io esco, volendo Però se me la respingi duro Ah, ciao Torno in porta Gol trigger, non puoi lasciarmi l'uscita Tanto il gol trigger è principiante Dico solo questo, tu è un professionista Un professionista? Oh, professionista Vaffanculo, cane pazzo di merda Senza offesa Rocket Leagueisticamente parlando No, no, no Non puoi metterla dentro da solo Come fai quando giochi con me Ciao, Bius Buonanotte E' molto sudata sta partita Credito che ho capito ora che canzone fa Mac Eh, pensate Nei video l'abbiamo detto il titolo Non ho stento a crederlo Devo dire la verità Nei video dicevamo L'ho dichiarato Che fosse l'aria di Buck Però L'aria di Buck mi sa anche di Un po' di scorreggio L'aria di Buck Sai l'aria che aveva nel pancino Vi dico solo meno male che non ero in live Se no con lag Mac avrebbe dovuto censurare il mondo Ma chi? Dice Argon Oh Ma alla fine hai capito che era colpa di Mario Quindi Eh, ho vinto Sì, vabbè Beh, non hai fatto niente Ho fatto un gol e un assist intanto Fai schifo Per dire Fai schifo Fai schifo Dai, vieni in blu Eh, ma dobbiamo Prima se loro pronti Cam in blu Ma perché non sanno cosa fare Grande Super Emix Bella lì Vai, vieni in blu Blu Oh Ma Ci sono altri Richieste d'amicizia Mister No Ok Dopo questa andiamo comunque online Così sconocchiamo qualcuno duro online Ok Ci sono eh Rapace L'ho mancata Proprio È venuta da me perché l'ho proprio mancata Vai, l'ho tolta Oh minchia, gli ho servito un bell'assist Noi perdiamo otto Vai Mech Guarda cosa c'è Sono senza turbo nel momento Adesso ce l'ho Mech sama Aspettami Eccomelo, eccomelo Mech sama Ui Sì, tu sei Mech sama Ciao Sabots Benvenuto Benvenuto Non ti ho mai visto qua dentro Anche se sai cosa suona meglio Secondo me LBT sama LBT sama Adesso imparo come si dice Amami in giapponese E lo ripeto Non me l'ho aspettato No, attraverso Atraverso Ero lì Ce l'ho quasi Merda Guarda, guarda Guarda, ero lì Vai Sei andato lungo alla fine Sei questo canale da più di un anno Oh, bene Sei la tua prima live Bene, benvenuto Chi l'ha detto? E Sabots Il nostro nuovo arrivato Sabots Di chi è che sei quel canale da quasi un anno? Non lo so, Sabots Credo tutti e due Ma il tuo o il vosso? Non lo so Seguo questo canale Ah Ma sai che No, Mech è un déjà vu Aspetta Adesso sto sicuramente Dirò una cosa Che ti Quella cosa che sto pensando Sicuramente dirai no Ma non dovevi dirmi Quindi non la dirò So che lo dirai Ti giuro Ho un déjà vu fortissimo Comunque Però potenzialmente A prescindere da quale tu venga Sicuramente conosci sia Mech e lui Ah, vabbè, sì Direi di sì Quello sì Quello sì Nel senso Come video è capitato spesso Io tipo vorrei pararla Torna No, no Tutti avanti Ecco Qua ho fatto delle mie schifze Di togliermi la palla Bravo me Bravo me Torni indietro Sti cazzi Sti cazzi Non ho turbo Non è vero Mi cerca di tutto che quello di Twitch Ok Mi sembra la prima volta Che partecipo perché non scrivo mai in chat Ah, ok Ah, tanto amore My name is enzo amore Wishwennie dice Posso giocare con voi? Sì, scegli Se mi mandi la richiesta su Steam Richiesta di amicizie su Steam A TGR edus E giochi con voi Sento molto una puttana Sì Ah, yeah Comunque direi My name is enzo amore How are you doing? Dai, dai una tua opinione su enzo amore Non mi dispiace Ah, no Anche il tag team Sono intrattenitori I vaudeville sono fantastici Anche i vaudeville A me che loro piacciono TANTO NO Passata sotto Contropedo Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi Ho fatto la stronzata del giorno Eh, ma come dicono nei miei video Se dovessimo fare Un montaggio con tutte le stronzate del giorno Di edux Come dicono Se dovremmo fare Me l'ha scritto un microchie Un montaggio di Forse Elia Non mi ricordo Un montaggio di ogni stronzata del giorno Avrebbe un video bellissimo E allora dovrei Apri la rubrica E guardate Non era Bius Chiedo scusa se stai seguendo la live A te che Mi sono dimenticato il nome Però Sì, dovrei fare la rubrica All'estronzata del giorno Ne metto una al giorno Però ce ne sono alcune molto belle Vai Ho provato a pallonettare E taccata Micidiale Eh, potremmo anche metterla Non penso in trasse Sai Non lo so No, no, guarda Perché L'hai presa Ciao Però Guarda quanto andava piano C'era Go Trigger Ah, mia Bongo XX Mi ha aggiunto agli amici Ok Però è uno Non erano Cioè Non erano tipo in 2 o 3 Che avevano detto Eh, voglio anch'io Oh, oh Bravo Bravo Perché stavo per lanciare Un contropiede Non indifferente Per un attimo ho creduto Potesse anche entrare in porta Sono tornato indietro Uh, però Questa è bella Questa è bella Questa è bellissima Quanta rapacità Era pacerrimo Parando soldi in faccia Mario gioca dei Binding Go Pisac Invece che guardare la live Fatti schifo E si scrive la malastruzione Contemporanea Lo so È una battuta No, no Grazie Ok Adesso sto guardando Ancora 2 minuti e 26 Non ce la faremo mai A finire in vantaggio No, no, no Dicevamo appunto Di finire in vantaggio Bravo Edo Adesso guardando i soprano Mi viene molto da parlare In mezzo italiana In mezzo sud Come fanno nei soprano Quindi tipo Sono molto buffo Però non ce la fa Quando guardo una serie E mi ci prendo No Io ho paurissima Di contropiede Di cane pazzo Ma di bravo Io avrei paura Di quello che sto facendo io Che ho fatto 3 rimbalzi Uno più a cazzo dell'altro Non so se hai visto Gol Comunque No Questo è fuori Porco me E sapete tutti Che io mi elogi Come una divinità Quindi Ecco Ti ho preso in piedi Mi sei bagnoppato In faccia Sì Ah Questa è bruttissima Meno male Che è passata di là Proprio Minchia Got Trigger Ha fatto un assist A cane pazzo Vabbè Io la metto lì Poi fate Fateci quel cazzo Che volete Con quel pallone Non importa Non importa Mettetela anche Nella reciclata Va bene Quello che vi pare L'importante È che Sono in porta Con i piedi In porta Perché Ho paura Visto che abbiamo preso Tra goli Contropiede di fila No Cale pazzo Minchia Adesso lo spacco Arriva No no Lascia 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 tutto Lascia tutto Ok Sono in mezzo rapace Non ero Convinto Vai che l'ho messa in mezzo Eh ma Con quanta poca rapacità Torno indietro Ora del contropiede Continua ad avere paura Del contropiede Boom Medici Sto inizando a capire Come si fa Non mi piace Nulla Di questa palla Invece adesso Comincia a piacermi Un pochettino Non mi venire A cagare Le palle Me l'avevo vista Io Eh ero Ero in porta Mi sei venuta addosso Non ti ho sfiorato Anzi Proprio perché Non l'ho sfiorata Che non è entrata Mi sei venuta in mezzo In mezzo ai piedi Volta Servite la grima Testa altra Siete tutti Siamo Una canzone Qua Cuore triste No è crashato Got Trigger No è caduto Got Trigger È caduto Got Trigger Direi che è vinta Abbiamo vinto Dai No aspetta Che non è detto Conoscendo Conoscendoci Io Finché non la vedo Non vedo il puntello La scritta Vincitore Io Non Non Sono Tranquillo Becco Eccolo Vabbè no Arriva al quarto gol Ma vabbè No neanche Ok Torna a me Lasciatelo dicere Che è rimasto solo Perché Negli ultimi 30 secondi È rimasto solo Allora lui lo lascio Perché ha giù Ho solo Bogo Noxo E quindi aggiungo lui Aggiungilo Dov'è? Non lo vedo Eccolo E vabbè Mix Dai Cosa ha detto? Got Trigger Comunque Ti ho voluto bene Per la partita Che abbiamo fatto insieme Sappilo Infilaci La partita futuristica A B Caccia Sta partita Futuristica Non l'avevamo ancora Nominato Oggi Partita futuristica A B Partita futuristica A B B B Mi bevo un po' di tenere Andiamo dei blu Mic veloce Blu veloce Blu 52 Dove sei? Ciao Max LBT sama Allora Dove sei? Non ti vedo Sei dietro LBT sama Amami Io sento loro Dicendo vai te Vai te Vai te Oh 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 No Quindi? Eh si Io sento un vai te vai te vai te Ah si è? Bella Hai detto anche lui Io non ho saltato Ma tipo mi sentite? No io ho annullato tutte le chiamate del mondo Che io non posso sentire Sentiamo le vostre tattiche Perché se non dici io io sento le loro tattiche Se sto Grazie per avermi Ci siamo squisciati Che strano Vero Ma noi puntiamo sul carismo Eh certo Oh in tardi ne abbiamo vinte un sacco Finora ne abbiamo vinte tu Ho provato ma ero troppo veloce Bello Guarda Puoi saltarmi Il tutto il replay Sì no No bongo Mi sembra un po' troppo sarcastico Ma no Ah vai mic Facciamogli vede Insegniamo Caccia ce l'ha in mezzo Devo andare Devo fare un assist alla edux Ecco Eh vabbè Però sto Troppo poco rapace Ma dai Mi sono impegnato di brutto Non era intenso Aveva l'aroma intenso Ma non aveva il gusto pulito Bravo vai vai Sono senza turbo Proprio completamente Quindi Presa Ho fatto una scoreggia e basta L'ho presa Eccomi 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 No 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 Non ci sono Non ci sono Non eccomi Corri Ciao Con quale turbo GG Mac però merda No te capite No te capite Però per No Non puoi fareste E' la mancata Ero lanciatissimo Ma No Quando avremo un minimo di ufficialità No Eh succede Anche i migliori Le formazioni professionale Eh Eh vabbè Ma che cazzo è Questo qua Vola che manco Jesus Copter Tra l'altro E' semi professionista Quindi figurati quando diventa professionista Vabbè magari giocava sulla Playstation Dove è tipo Veteran Eh Questa è una gran palla Questi sono quei goal Quei goal che non ci puoi fare niente Perché non li vedi neanche partire E' vero Nessuno Kaneda Tetsuo Nessuno aveva nominato Tetsuo Kaneda Il Jesus Copter Sì sì Nessuno aveva chiamato Nessuno aveva nominato Come sulla PS3 C'è anche per PS3 Non era solo PS4 Ah sì Ah forse giocava al P Ah cosa Ad Acrobatic Super Turbo Minter Power Preda Tranquillo God Non ti preoccupare Tanto mancavano tipo 20 secondi Quindi non c'è Oh Lo capisco Anche bello Guarda Guarda Super Sonic Esatto Quello lì Quello lì Quello lì Esatto Kaneda Vai Mac Insegniamogli a giocare Ho già mancato il primo Turbo Per dire Prv1 Oh no Eh quasi fatto un gol Comunque Aveva sussati di apposso Oh Non ci sono No Non me la puoi toccare Non ci sei Se non ci sei Non ci sei Non la prendevi mai Ma sì che la prendevo Ma ogni volta Sei un Venezia Io l'ho vista lì Te non mi sembravi proprio in una traiettoria molto Io ero lì Ero pronto Era mia Era già mia Era proprio lì C'aveva proprio il nome Ha scritto a pennarello Ma è che sulle palle in aria Dobbiamo dire Non mi senso Ahia Il nome è scritto a pennarello L'avevo scritto io All'inizio della partita Tipo così L'ho fatta rallentare Sì vabbè Però no Ah no Vendetta per prima Ma cioè Hai visto che cosa fa Ma guardalo È bravo lui Non è umana Staro minchia Io non ci gioco mai più Eh beh Eh beh Sì è bravo È bravo Ma capozio Si è giocata a quello precedente Merda Ma tu devo andarlo A ripescare Sono curioso Di vedere quanto Ma è questo Quanto cambiava No più che altro Per vedere cosa cambiava Che uscirai Quello vecchio No Però volevo vedere No Finite di darmi botte dentro Non siamo agli autoscontri Cazzo Ecco Ho mancata di nuovo Per dire Oh Però Due Doppia parata Eh vabbè Ho provato a fare A distrarre Vai bravo No Non l'ho superata Non la vedo Sei tu rapace Eccola Si attraversa piena Vabbè Eh vabbè E comunque abbiamo giocato Al massimo Delle nostre potenzialità Oddio Cos'è successo All'improvviso Mentre stavo arrivando A diecimila all'ora Ho visto la palla Decollare Duro E ha detto Che cazzo Traversa Traversa Ok Almeno un altro gol Vai Minchia Ci ho fatto un ass Ma mancata Però aspetta E di ritorno Stavo arrivando E vabbè Sorry Ma Guarda Se il team glitch Perderà Edo Le serie Continuare Saprà Che senso Non so Non dire Perché Elia Sta dicendo Che tu Non finisci mai Le serie Ma non è vero Quelli che non ho finito Quelli che non ho finito Le ho cancellate Perché non le volevo più fare Che poi è una Cioè Alien Basta Le altre le sto continuando L'ultima puntata Di cosa Di Bloodborne Di Bloodborne Che a livello di lore Penso sia la puntata più importante Di tutte quelle che mai metterò Proprio È fondante Infatti si chiama più Ho detto Vabbè Non ci do neanche il nome Caio Che è Lore È Lore Quella Perché sgoccio La penzola Sì Vabbè Grande parata e rovesciata Mannaggia A te e la tua famiglia Grandiosa Parata e rovesciata Parlando Dicolo che tutti gli insulti Che escono in fase di Rocket League Sono alla fatta Rimangono dentro Rocket League Come un po' Ibiza Quelle posti lì È come Il Fight Club Oh merda Vabbè Ok Ogni tanto sbaglia È umano anche lui Ogni tanto sbaglia anche lui Ok No L'importante è saperlo Eh vabbè Ci ho provato Lo fa per spotterci Secondo me No No Io volo Guarda Ha volato Mi ha anticipato Comunque cambia solo la grafica Da super Ah cambia solo la grafica Ok Ok No immaginavo 5 dai Dai Diamoci questo obiettivo Around the world Around the world Around the world Le cuffie della GameStop Sembrano le cuffie degli aviatori Sì mi sembra di averle visto da qualche parte Cosa Probabilmente Queste più persone E non Vi aspettate E non chi vi aspettate Ma mai Cioè Non ve lo aspettate mai Ma nessuno anche Guardate Forse Dostarve potrebbe fruttarci qualcosa di Carino Dai mec impegniamoci L'Ebitisano Ok Io la butto giù Io ti ho chiamato L'Ebitisano Ma non puoi deludermi adesso Dov'è? Oh l'ho visto Ho visto un bongo Selvatico Ha detto Un bongo selvatico fa tanto razzista Contro gli americ Contro gli mia In effetti si Faceva un po' Era un po' una cosa razzista Non era inteso Razzisticamente Ah per quello ci pensa Per quello ci pensa Al Kogan Vabbè sì esatto Basta fare due parole con Al Kogan E finisci di picchiarmi dentro Porca sozza Ma se la tenessimo sullo 0 a 1 0 a 0 Ma a me va bene Vabbè no Nel senso Bravo Quindi vuoi dire 3 minuti e 56 di me Che importa? No Se facciamo così Ne prendiamo 8 E quello è il problema Così come stiamo facendo adesso? No Se stiamo così La cacciamo nell'angolino E poi stiamo lì a ballare la rumba Lì nell'angolo Magari Mech Mi ci sono Ho fatto proprio il blocco stradale Mi sono sentito in Need for Speed Hot Pursuit Oh gran gioco Ci avevo nerdato tanto io su quel gioco No Però io non ho turbo Io vado indietro a bunny hopping estremo Toccata Ho fatto una cosa fondamentale Non ci crederai mai No l'ho vista L'ho vista È stata molto pro Rapace Sto quasi giocando a Rocket League Nel senso Sembro un giocatore di Rocket League Da professionista che sei No Esatto Vabbè ma Diciamo che le ore di Rocket League non corrispondono alla capacità No Mai Ma le ore di qualsiasi gioco Non corrispondono alla capacità in realtà No vabbè dipende eh Vabbè 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 Sono con un'ora su Isaac o è un order lion che l'ha appena comprato Ok Ho fatto una cagata però nel frattempo ho respinto a cane pazzo Sono andato in momento l'oria E ho rinviato tutto quello che ci poteva capitarmi Nope Contropiede Contropiede E c'è dux rapace No No Mac Ma non c'è problema No ce n'è Ce n'è in realtà Ci sono grassi Grossi Bravo Edo Ma bravo Edo No me la sono riposate indietro Vabbè non c'è problema No 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 Non ti ho fatto niente Ho provato ad andare No io io Mi odio da solo stavolta Era un odio localizzato a me stesso medesimo Vaffanculo Mi stiamo Secondo me Mi stiamo Mettendo in crisi Non dirlo No nel senso che stiamo giocando meglio Quindi non si aspettavano che fossimo capaci a giocare Ne prendiamo otto negli ultimi cinque secondi di gioco Ma bastardo Bongo X Tornatene in Africa Ma finiscila di fare battute Razziste Porriciata E l'ho fatta al contrario però Ha funzionato? Sì Non credo Il rimpallo della mia vita ho fatto Non mi romper Ok Se no nel rinvio Non puoi fare gol Non puoi fare gol Bongo X Non hai capito? Però non era male come idea Ho fatto un bel rimpallo Devo ammettere È stato rischioso ma ha funzionato Sapevo Che venivi a rompermi le balle Io? Eh sì Cosa ho fatto io adesso? Lì dietro Stavo rinviando via il pallone Guarda ma non ti ho toccato Prima E non vedete che mi hai toccato Hai toccato il pallone Ma quando? Eh sì prima All'inizio di quell'azione del replay Porca miseria Stavo per spararla nella ionosfera Ma io non ho fatto niente stavolta Sei in Venezia Ecco Vi è mancata tutte e due Abbiamo laggato Vabbè Era uno schema no? Giusto? Oh Era uno schema Era uno schema Cosa hanno fatto? No tu mi hai tenuto fermo lui grazie No perché abbiamo tutte e due laggato nello stesso momento E quindi abbiamo fatto Ah il controller No 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 non era il controller Era che abbiamo laggato tutte e due No non va il controller a bongo è fermo Ah si è bloccato Quindi? Vabbè facciamo Teniamo fermi 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 Eh ma arriva cane pazzo durissimo Eh vaffanculo figlio di No giusto E in live non posso insultare come vado a fare Vabbè a sto punto fanculo Cane pazzo gioca Gioco anch'io Eh vaffanculo Si è incastrato il Si è incastrato il jpad Che spica Ok è andato Dobbiamo fargli fare un gol Tanto lo fanno tranquillamente loro Senza che bisogna cucinare Eh ma poi ci dicono che abbiamo vinto slealmente Sappi Ma Direi che il risultatone è già stato riuscire a pareggiare Ad arrivare al pareggio Bravo Già il fatto che eravamo 1 a 1 Era un risultato Bastardo Veramente Però forse è stato utile Il fatto che mi abbiano colpito Perché sono maggior Eh mi ha spinto Mi ha spinto Merda Ti perdono solo perché abbiamo vinto Mi ha spinto Cosa vuoi Oh Non ci sto Facciamo la bella Dai Dai La bella Scrivigli la bella Nel quale ci faranno 8 gol E ci metteranno a casa in lacrime Ma Tanto devo andare la nanna presto Che ormai dobbiamo svegliarmi Per provare a ordinare la cosa a Z Ah è vero Ficchia L'ho 10 e mezzo Saro lì rapace Ah e fa funzionato Facciamo questa Poi disegni Tutto a spia Sì Io ne ho ricevuti Ho ricevuto quello Sia da parte di Greta Che da parte di Elia Ok Questa palla va dentro Facile Ma proprio era data a 0 Beh uno di Qualcuno Adesso sei tu che mi hai dato nel culo Io non mi sono mosso Sono stato fermo lì Allora io ho visto Me che la prendo Io ho solo visto me spostarmi Io ero fermo Sì Sì No no Mi hai dato in botta Io ero fermo Guardavo il suo film No no Mi hai sparato in porta L'ho visto nel trailer Ah poi Vai Vai Carico Aglia E' diventato violento cane pazzo Beh se cane pazzo In teoria Potrebbe anche diventare violenta E' di Nembrose Me lo sento Beh l'idea è quella Comunque L'ho equilibrato Allo siccio Affanculo Ho provato a pararla Avevo preso anche E io ho provato col culo Guarda Cioè si vede proprio me Che ci provo Guarda Prende Colpisce Tu ci provi No ci ha ritoccato Io anche ho dato la botta Ma Entrato Ma hai Concentrato Non ce l'abbiamo Non perdiamo la concentrazione Ce l'abbiamo fatta prima Possiamo farcela anche adesso Siamo arrivati all'uno All'uno No Ero già in avvia Ero già in avvia Ma non me ne frega una mazza L'abbiamo già detto Mie volte di non rinviare Verso la porta Quei dito Tu devi star fermo Ma non è vero Non era verso la porta Eh no Non era verso la porta Ero dalla parte giusta Io Quindi tu Ma io ero Dalla tua stessa identica parte Ero solo qui in alto di te Come è possibile Se ci siamo rimpallati La palla Ma non ci siamo rimpallati La palla tra noi Vai Vai la proteggo Sbagliata Ecco Perché mi hai picchiato dentro di nuovo Ti devi cavare No Ti ho picchiato dentro Dopo che l'avevi mancata Per provare a recuperare al manco Vedi che te la devo stillare Cazzo la roma Dai Vai Merda Vai No non ce la faccio Stavo girando Stavo ancora girando Eh io mi sono infottuto nella loro porta Vai 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 No No Ecco Gol A meno che tu non sia arrivato bagnoppando to the extreme Però Che culo Oddio Ho messo in mezzo Vai Caccia Eh va beh ma por Cioè Come cazzo faccio se mi anticipa di tutto questo uomo Dai No Minchia Cioè puttana Ma ne mancano una Tutto il curvo Vai No Questa è qui fuori Ah è anche ribalzata 200 km indietro Eh la bevo Eh non ci credo Salta Cioè Ho già provato Questa è stata molto a culo Diciamolo No 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 Cosa sta succedendo la connessione Oh Bongo XX sta pingando 176 Vai bene Puntiamo per vincere adesso No 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 Eh mi sa che si schianta tutto Mi sa Mi sa Ah ok A posto Ah finita Amicchia Mi ha detto adesso che è partita la partita Fa il potere C'era quasi Un gol giusto per dignità Dove sei? Sto venendo a difendere Bene Sto venendo in difesa Stai venendo in difesa Oh Come dissi Sarai Mi ha anticipato No mi ha rubato il turbo Cazzo Allora Con calmissima Sanguissimo Freddissimo Pagno Anche te Bene Bene Cioè Non era male Mi ho lisciata una Adesso Mi insulta Quando lui ne ha lisciato il mondo Dai ho sminchiato cane pazzo Però No Cane pazzo di merda E rimbalzo No Aia Aia Ho sentito Aia E no 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 You didn't Contropedo Anch'io Sta arrivando Non arriva nessuno Vero Io nel dubbio ho sfondato bongo E anche me Maledizione Vai Vabbè Vabbè Almeno non abbiamo perso A uno Vabbè Nel dubbio Sono già Anno Anno bongo Cane pazzo E' bravo Ma bongo E' una roba Imbarazzante E' frustrante Giocare contro Sì Si vede Si vede Cazzo Fa i voli Questo assist Pala sulla fascia Gol di testa E' quello che dovremmo fare anche noi Si Che per loro facciamo a 2 all'ora Mentre loro lo fanno a 90 all'ora E ogni tanto ci viene E una volta ogni 5 Invece loro lo fanno una volta ogni 2 A 920 km all'ora Che culo Però non puoi dire Loro lo fanno a 90 L'ho presa Comunque L'hai presa a 90 La palla A 90 non l'ho mai presa Neanche a nessuna Non l'ho mai preso a nessuna angolazione Io per fortuna L'ho dato ma preso no Da l'ho preso Più o meno la stessa cosa Ah no Sì Ah no Cos'era Fabri Fibre Diceva una roba così Sì una roba così Era una roba così Era Dai oppure lo prendi Sì era una roba Ma era quella canzone Che no Avete citato la canzone Che vi dimentete Che non Vi ricordavate Esistesse Non mi ricordo più Era VIP in trip Vabbè dai Poteva andare peggio Poteva andare peggio Datemi i vostri diseghi Era una tua puntata di Isaac Poteva andare peggio Poteva andare peggio Sì Era Che la vedi totalmente Tante volte In quella puntata Mannaggia Non accetto Non accetto Ma gli iscritti Su Steam Solo perché poi Mi faccio il rifornimento In live Capita perché non li accetto Di solito E' stato in live Esatto Adesso ti passo le foto Di Greta e lì Disegna l'otranza Around the world Around the world Se il mio internet funziona Calma Allora Questi sono i disegni Da settimana scorsa Alessandro Mi hanno condiviso Ecco Ric Flair Che dà il pugno Al muro di Berlino Ma non è un fotomontaggio Oh sì Sì No ok Sì Di brutto Io ho Disegno di Greta Che però Non me lo carica Se io faccio così Lo vedi Prova a guardare Quel che ti ho dato Su Skype Quanto è bella Allora Aspetta Ma questo Ho il permesso Di poterlo Mettere? Sì 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 E anche questa Di via Io ho queste due Ok Quindi altre Non Allora Allora Il primo Intanto è uscito Un nuovo video Di Natsuma Eleven Di Z A quest'ora? È uscito Quattro ore fa Ah ok Dicevo a quest'ora Beh Mac Quattro ore fa È uscito alle otto Eh lui Ce l'ha Da mettere Qui video In questa A quest'ora E qua Non so perché Però È uscito a Leo Come mi dite Ma Bloodborne Sì ma Bloodborne Non fa un culo Questa è Greta È Greta No non è Greta È fatto da Greta E possiamo dire chi è Oppure Comunque siete decisamente Meglio di quelli Che trovo online Grazie Grazie WishWenny Grazie Grazie Non so Per aver perso Quattro a zero E sei a due Vabbè Vediamo Però Pensavo ci dovevo buttare È bellissima Ci dovevo buttare Non le go No No Le dove Pensando Ci potevo Dovevo buttare giù Tutte le zoccole Da quel gommone E' Argo E' Argo L'ha scritto L'ha scritto Su noi E' Argo Ma perché sei Non so mai Se vuole far sapere Che è lui Oppure no Il nostro mega moderatore Ha proprio L'altro mega moderatore Che fino a fatto oggi Non l'ho letto Non l'ho letto Ma sai cos'è? Lo so benissimo Ma perché è solo io Lo saputo per ultimo Non lo so Questo è? Cos'è? Rocket League No Goofball che è stupido È vero Scusa Edia Sono un cretino Questa è Goofball La partita è Goofball Bene Quindi direi che possiamo Chiudere qua Pt355 Non hai altri disegni? No Non ne ho visti No Come ne ho visti? In chat In chat Su Facebook Mi sembra che non ci siano Guardo un attimo Ricontrollo Un secondo 18 notifiche Parco Giulio Eh Vedi No Va bene No Ma una mano a mano ci sono Ci sono delle immagini Ogni tanto Alessandro Bregu Fa dei disegni Su quello che succede Nella mia Nelle mie puntate Di Youtube Ad esempio oggi Oggi ha mandato questo Aspettate Che lo metto Ha mandato questo Sul fatto che non riuscissi A schienare Per nessun modo Santino Marella Comunque Greta Mi ha dato il permesso Ah ma così Con La tua foto Ah ma la tua foto Ma non è una foto Qual è? No Tentami Tassumo in John Cena Ma quando lo faccio Oh È bella Ah ma canale di Ah ma c'è Ma scusami Ha iniziato a fare video Ma cazzo ma non lo sapevo Ma nessuno mi ha detto Io l'ho scoperto ieri sera Perché è scappato ad Argo Cazzo ma non lo sapevo Ma dovete dirmelo Ma la division 1 che sarebbe Su Rocket League Divisione 1 Cioè se vai in classificata Ci sono le divisioni Se è 10 Se è 9 Si E così via C'era 1 Ci sono Se guardi i nostri video Di Rocket League Wink 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 Sul canale la mente di Edu Perché tu hai più views Quindi vai su Tanto aspetta No sul canale anche Gliceru Ci sono 5 7 puntate già Tipo Siamo nella divisione 8 Tipo Io sono Si anch'io No Greta Non lo sapevo Che tu avevi un canale Stavi iniziando a fare I video sul canale Non avevo idea Comunque Se vuoi avere vita Nel Il tuo canale Vuole avere vita Togli tutte le canzoni Di Coso Nel quale Potresti essere bannato Per Comunque è passata Una Ragazzi Io vi odio È passata una settimana E abbiamo raggiunto 75 mi piace Mi fate schifo Ne mancavano 25 Cazzo Meglio Meglio A 100 giocava a CS Merde 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 Meglio così Meglio così E ma è vero Che Argon e Mario La fanno pericca Fanno la loro Road to Division Comunque il nostro mod Non sta neanche guardando Proprio A parte Argon Sì ok Dico l'altro Argon Argon è il god mod Mettiamola così Non c'è la cosa God mod Sì È un gioco God mod E ho capito che sono ricordi Greta Ma ti streccano pure la famiglia Sì infatti O le metti Metti le private Mettite le private Così almeno le puoi vedere quando vuoi Ma fidati Se non vuoi che ti tirino giù il canale di violenza Puoi tenerle ancora Metterele non Non in elenco Sì le metti private Non in private Non in elenco Anche volendo Private le vedi solo te Around the world Bene direi che possiamo chiudere oggi Non ci sono altri disegni L'ho visti Ma no Però metti qualcos'altro Perché chiudere Constantino Marella col titolo Mi fa un po' male Va bene Va bene No dai Mettiamo una foto di Roddy Piper In memoria Ah no Ci sono le foto dei nostri E allora metti Argon Eh c'è No no c'è Cioè da una parte c'è Argon Comunque era Day Live Il film con Roddy Piper Day Live Eh si vivono infatti Sì Quello con Sì uno dei capolavori di Carpenter Tra l'altro Sì Infatti Infatti ho detto Essi vivono in inglese L'ho detto in L'ho detto in In italiano L'ho detto Ok Dai stavolta Stavolta veramente Chiudiamo Che è 2359 Sì E io poi faccio Un bel simpatico host Northern Lion Come al solito Cioè prima o poi Comincerò a cercare Degli youtuber italiani Eh Non lo giuro Ma non ci sono Cosa vuoi fare Non so Posso cercare adesso Osta a me che faccio Osta a me che faccio Un nuclear throne Adesso così L'ignoranza Sì Osta alla mente Così Osta alla mente Di Ma lo stai per fare Veramente O una Ma no Non penso che andrebbe mai Ok Dovrei provare Dovrei provare ma La vedo dura Così Stavo cercando Adesso nel frattempo Così Ma se in effetti Potrei fare Tipo Vediamo un po' Tutti i canali In italiano Io dico Dico intanto Futami lovers Qua c'è Monty Sound Tre scarsoni In competitivo Su Rocket League Potrei mettere lui Ma no Chi è Anche molti più Piace anche molte più cose di noi Volendo Quanti ne hanno 77 A quest'ora Che figli Te la me Quindi va bene Dai Provo un po' Aspetta Dove vedo i canali Italiani I canali Canali Dai Chiudiamo Quindi Provo a ostare Monty Sound Fate una cosa Appena entrate Nel canale Fate tipo Glitcherwood Ride Così scrivete Tipo così Di violenza Di ignoranza Così Cominciate a spammargli La chat E ci vediamo La prossima settimana Oppure Probabilmente Durante la settimana Qualche cosa Di faremo Perché non possiamo linkare La gnocca Che sta giocando A A A LOL No Perché no Ma l'ho fatta E Mi ricordo Cosa stavo dicendo Mi ha interrotto Vabbè Sì Probabilmente Farò Farò Il live Di Cosa Per finire Per finire O finire quasi Non so Cosa sarò Me ne mancheranno Ancora uno o due Di Axion Verge Probabilmente Ne mancheranno Ancora un paio Direi E poi E poi Vedremo E poi dopo Io so già cosa fare Dopo Axion Verge È sempre In single player È sempre Single player Sì Certo Così sono tutti In single player Ti vogliamo bene Ma carica divinity Sì Sì Adesso puoi caricare Carica divinity Va bene Ci salutiamo Intanto io Faccio Mantis Oned Si chiama Mantis Oned Oned Ok Perfetto Saluti Salutoni Ciao Aspetta Ciao 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 Anfinito Ciao 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 Ciao